ciao a tutti un breve video per mostrarvi quello che mi è arrivato da aliexpress un paio di giorni fa e l'ho solamente aperto per vedere se all'interno c'era il contenuto che che speravo arrivasse ha richiesto i soliti due mesi e si tratta del dei personaggi disney questi sono i personaggi appunto sono quattro dovrebbero essere sì guardate che carini cinque allora iniziamo con proprio agli albori spostiamo un attimo dovrebbe essere così così si mette qui guardate che carino allora il materiale è plasticoso sì non è di quelli in resina allora io questi personaggi li ho trovati mettendo su aliexpress personaggi disney io non so se dirvi se sono originali perché comunque vediamo se riesco a farvi lo faccio vedere al contrario perché si nota meglio c'è scritto proprio disney quindi credo sia credo sia un come la samsung quando se avete visto se avete visto il video dove mostravo il la scheda di memoria della samsung praticamente era scheda memoria samsung è completamente originale però mi era costata un quarto di quanto costa nei negozi diciamo qui in italia ecco e credo sia perché magari da lì che so arrivano nei negozi e c'è il il rincaro proprio del negozio perché questi mi sembrano proprio originali comunque questo è uno poi guardate che carino guardate bambi è veramente da tanto che li che li aspetto questo proprio non ha da qua non si non si nota tanto la scritta però da qui si anche questo è diciamo originale è così fatto benissimo carinissimo così poi pinocchio anche qui targhetta disney è carino qui poi vediamo trilli allora di trilli io ne ho ho altre diciamo bamboline le ho prese un paio di anni fa sapete che non so neanche se ve le avevo mai mostrate perché le ho acquistate prima di avere di aprire il canale quindi in caso vi ve le mostrerò anche qui guardate carinissimo e poi come ultimo però ripeto me ne devono arrivare altri perché ne ho presi di quattro tipi però sono in ritardo infatti ho dovuto fare il la richiesta di rimborso quando si acquista su aliexpress ti danno un periodo in cui diciamo un lasso di tempo per cui l'articolo arriverà se per esempio voi notate che mancano due giorni ad esempio ancora il prodotto non è arrivato fate una richiesta di prolungamento della dell'assicurazione perché in questa maniera vi potranno o risarcire quindi rimborsare tutto quello che avete speso oppure rinviare il prodotto e in questo caso io già ho dovuto fare la richiesta di rinvio prodotto e poi come ultimo dumbo guardate sempre la base che carino questi personaggi non hanno tempo non hanno età sono bellissimi carinissimi e poi praticamente c'era l'opzione diciamo di avere anche le scatole le scatoline infatti vediamo togliamo questo infatti ci sono c'è quello di Pinocchio quello in questo caso c'è questa marca quindi non sono proprio della Disney però l'avete visto proprio sono perfetti così dolcissimo questa che carino e sono dietro così in questa maniera personaggi classici questa è proprio la locandina del film Disney Peter Pan Oswald Bambi e Pinocchio e ci sono anche le date in cui sono stati fatti i film i film quindi Pinocchio nel 40 Bambi nel 42 Oswald non c'è Peter Pan nel 53 e Dumbo nel 41 come vedete ancora sono come si dice sempre verdi quindi io vi saluto e spero di avervi fatto una compagnia anche in questo caso colorata che vi siano piaciuti questi personaggi alla prossima ciao a tutti e si tratta di qualcosa e si tratta di qualcosa i primi i primi proprio ai ai primi eh benissimo benissimo vabbè lo devo ecco di nuovo si è tolto me ne devono arrivare altri sono è caduta oppure di avere di nuovo il prodotto e sono in ritardo infatti ho dovuto fare il sapete quando quando si si acquista su Aliexpress ti danno un certo tipo di tempo e no sapete quando allora Peter Pan no 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 che c'entra e sempre in ecco vedete sono sempre però così mica si vedono bene aspetta facciamo così vediamo aspetta attenzione la